Mario Mario sotto il tab da Coca-Cola vince un soggiorno a Londra ha detto io invece non so se ci vado a fare a Londra e fa la mente basta per farne il dialetto nostro lentamente l'oltre capisce sto male a Londra sale nel taxi e fa una taxista io vorrei ci avrei piccadilli ci circus te ci po' sub eccezionale, bellissimo lei va raggiù bellissimo adesso prendi un po' di confidenza e fa devi sapere che io so Mario e vengo da mercatene io invece so Beppe e so di Sant'Angelo ma tu sei il suo Mario e vengo da mercatene te sei Beppe e sei di Sant'Angelo perché ancora continuiamo a parlare in inglese a te che mi pensi ma un montiere